Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo dei guanti da trekking invernali di Decathlon. Ho qua un modello super economico, una via di mezzo e un modello top, di cui adesso vediamo per ogni guanto pregi e difetti all'interno della recensione completa. Iniziamo dal modello più economico. Economico pensate che perché costano solo 12 euro. Questo modello qua, chiamato Forklats Trek 500 Stretch, è un modello che Decathlon dà per temperature comfort attorno ai 9 gradi. E i 9 gradi sono rispettati. Tanto che questi guanti, sì, sono invernali, ma poi vedremo nello specifico per quale attività è meglio usarli. Inizio però a descriverveli. Allora, sono modello stretch perché comunque sono molto aderenti e hanno un tessuto abbastanza elastico, quindi comunque la libertà di movimento è garantita. Troviamo nella parte interna, sul palmo, tra il pollice e l'indice, tutta una parte bella strutturata per poter andare, faccio esempio, a stringere un bastoncino, magari anche a stringere qualche catena. Una parte che personalmente ho apprezzato. E troviamo anche tutta la funzione touch posta sul pollice e sull'indice, che anche lei funziona bene. Abbiamo inoltre un piccolo cordino posto sul polso per facilitarci l'ingresso della mano e quindi andare a metterlo molto più facilmente. E anche un piccolo laccetto nella parte inferiore per poter richiudere i due guanti e non perderli. A livello di materiali, personalmente, mi sento di consigliarvelo, perché comunque l'ho utilizzato abbastanza in molteplici attività. Non ho avuto problemi, non si sono rotti, non ci sono stati buchini, le cuciture hanno tenuto bene, quindi a livello di materiali ve lo consiglio. Però, come vi dicevo prima, la temperatura dichiarata è di 9 gradi. Quindi questi guanti io ve li consiglierei più per attività magari ad alto tasso aerobico, ad esempio i trail running dove le mani si scaldano anche perché corriamo. Io li ho utilizzati molto bene anche in bici. In bici magari non sono giornate troppo fredde, manco le giornate un pochino più, diciamo, primaverili, possono andare molto bene. Oppure questi guanti hanno tanto tanto senso nel periodo estivo. Nel momento in cui magari noi vogliamo andare a fare un bivacco, magari troviamo qualche catena in giro, ci possono sempre tornare utili. Diciamo che questi qua, più che guanti invernali, definirei guanti tre stagioni, primavera, estate e autunno. Per i guanti invernali, adesso passiamo al modello successivo. Come detto, ora parliamo delle moffole modello Trek 500, anche loro. Perché delle moffole? Io personalmente non ho mai apprezzato le moffole prima di provarle. Adesso, dopo averle provate, mi sono completamente ricreduto. Soprattutto per il fatto che, se dobbiamo utilizzare il telefono o fare qualche movimento, per esempio anche ad lacciare le scarpe, è molto più semplice con le moffole, perché riuscendo a tirar fuori le dita, riusciamo a fare praticamente tutto senza dover raffreddarci completamente la mano. Però queste moffole hanno un grande ma. La temperatura dichiarata da Decathlon per queste moffole è di meno 12 gradi. Sinceramente, secondo me, è sbagliata. Il problema è il pollice, che secondo me c'è poca imbottitura. Io ho provato a meno 5, meno 6 queste moffole e i pollici mi si sono congelati, sia al destro che al sinistro. Il resto delle dita no, ma il pollice sì. Quindi, considerato che comunque non possiamo avere un dito che si congela, io penso che la temperatura minima per queste moffole sia attorno al meno 1, meno 2. Spingiamoci al meno 3 se magari siamo persone particolarmente calorose, però non andrei sotto, perché davvero la termicità e l'imbottitura del pollice è troppo scarsa. A livello di feature troviamo anche qua, nella parte del palmo, tutta una zona abrasiva con un grip migliore, proprio, come dicevo, per utilizzare dei bastoncini, ad esempio. Anche qua troviamo, nella parte inferiore, una piccola fettuccia per aiutarci a mettere su le moffole, ma soprattutto troviamo due fettucce poste sulle due dita, qui nella parte alta, per aiutarci a toglierle, perché le moffole è facile metterle, ma non è così facile toglierle. Quindi, queste due fettucce ci aiutano davvero tanto nella rimozione delle moffole. A livello di materiali, comunque, ci siamo, perché pensate che io queste moffole le utilizzo dall'inverno scorso, quando avevamo provato tutto l'abbigliamento di Decathlon, e in due stagioni non hanno mai avuto problemi, il materiale è ancora ottimo, non ci sono state scuciture, punti in cui si è rotto, quindi, a livello di materiali, molto buono. Queste moffole non sono impermeabili, attenzione, però sono un pochino idrorepellenti, nel senso che, se metteremo la mano su della neve, magari per aiutarci a salire su qualche roccia, se prendiamo un pochino d'acqua, non avremo problemi. Però non sono impermeabili, cioè, se dovessimo prendere una nevicata forte, o della pioggia forte, comunque, alla lunca, andremo a bagnarci la mano. Il prezzo dichiarato da Decathlon per queste moffole è di 25 euro, secondo me ci sta. Consono a quello che andiamo a comprare, il rapporto qualità-prezzo è giusto, secondo me il prezzo è consono. Veniamo a parlare dell'ultimo modello, quello più costoso di Decathlon, gli MT900. Questi sono guanti, innanzitutto, impermeabili, e vi parlo subito dell'impermeabilità, perché mi ha straconvinto. Nel senso che, io l'ho utilizzato sotto una nevicata per ore, 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 e c'è un piccolo ma, nel senso che il cuoio, per natura del materiale, tende a inzupparsi molto, e si sente, nel senso che la mano la sentiamo proprio pesante. Però, allo stesso modo, la membrana impermeabile messa su questi guanti non fa sì che l'acqua entri. Quindi, anche se avremo i guanti bagnati, le mani all'interno resteranno molto al caldo. A livello di materiale, il cuoio non è il top per degli guanti da trekking, però comunque ci può stare. Garantisce comunque un buon grip, garantisce comunque una buona durabilità, perché il cuoio si è tenuto bene a davvero tanti anni di vita, quindi diciamo che anche a livello di materiale mi sono trovato molto, molto bene, e soprattutto questa membrana impermeabile, come dicevo, mi è piaciuta molto. Qua troviamo, nella parte inferiore, uno strap da andare a richiudere per poter chiudere il guanto, e allo stesso modo anche la fettuccina per poter aiutarci a infilare il guanto. Per toglierlo, inoltre, troviamo una fettuccina bosta sul medio, qua in alto, per riuscire a tirarli via, ma non solo perché questa fettuccina può tornarci anche utile se dobbiamo, ad esempio, appendere i guanti all'esterno dello zaino. A livello di calore, questi guanti vengono dati con temperatura comfort attorno agli 0 gradi da Decathlon. Secondo me possiamo spingerci anche un pochino sotto a meno 2, meno 3, senza tanti problemi. L'ho utilizzati anche a qualche grado in meno e non mi hanno dato problemi. Perciò, in generale, diciamo che questi guanti mi sono veramente piaciuti. Unica nota un pochino negativa, ma è normale con questo tipo di guanto, ovvero che facciamo fatica a fare determinati movimenti, a utilizzare bene le dita, ad esempio per allacciarci le scarpe, ma perché naturalmente il guanto, essendo molto grosso, ci impedisce questi movimenti. In compenso, però, troviamo anche sull'indice una parte touch, quindi volendo possiamo utilizzare anche il telefono direttamente con i guanti. A livello di prezzo, questi guanti, come vi dicevo, sono i più costosi, costano 45 euro, ne vale la spesa? Secondo me sì. Alla fine è un paio di guanti, soprattutto poi in questo colore nero, che possiamo utilizzare anche nella vita normale per andare in giro, quindi con una singola spesa riusciamo a prenderci un guanto che possiamo usare in diversi contesti. Quindi, a mio parere, ne vale la spesa. Se però dovesse trovare qualcosa di qualche marca superiore a questo prezzo, a quel punto orientatevi su delle marche superiori, naturalmente. Tiriamo le conclusioni, quindi, per questi guanti Decathlon. Alla fine a me sono piaciuti in tutti e tre. Vanno utilizzati in diversi contesti. Io personalmente vi consiglierei di procedere in questo modo. Comprerei questi guanti per primavera, estate, autunno, da avere sempre nello zaino, tanto sono piccoli, leggeri, non creano ingombro all'interno dello zaino, quindi sono di quei guanti che buttiamo nello zaino per tutto l'anno e ce li dimentichiamo. Per l'inverno, invece, qui avete due scelte. Se preferite le moffole, queste qua lavorano molto molto bene, però hanno il neo di non essere impermeabili. Se invece volete un guanto impermeabile, andate su questi qua, il modello più prestazionale. Sempre restando, che a livello di calore diciamo che sono, come dicevo, equiparabili. Quindi, se state cercando qualcosa per andare magari a meno 10, non penso che Decathlon abbia dei guanti adeguati. In quel caso, vi consiglio, se volete Decathlon, di orientarvi più sui dei guanti da sci, piuttosto che da trekking, oppure di andare direttamente su altre marche. Detto ciò, ragazzi, io nella speranza sia stato esauriente e esaustivo anche per questo video. Vi ringrazio, ve l'ho guardato e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!